Con Michelangelo Di Maio, presidente della Forti e Veloci Isola d'Ischia, ci siamo quasi, siamo alla presentazione di questa undicesima edizione, cosa dobbiamo aspettarci allora da questo evento? Dovremmo aspettarci sicuramente una bellissima giornata di sole, come dicono le previsioni meteo, perché l'anno scorso alla decima edizione c'era un ventaccio che non consentì nemmeno agli atleti regionali di poter venire perché sospesero le corse degli aliscafi, traghetti andavano a singhiozzo, quindi chi voleva venire, insomma, non all'ultimo momento rinunciò per paura di non riuscire a rientrare, ci furono comunque delle persone che fecero il weekend, il capodanno a Ischia, ma di meno rispetto a quello che avevamo previsto. Quest'anno invece dovrebbe andare tutto bene, quindi dare la possibilità di, per la seconda volta, di sperimentare questo circuito velocissimo di 10 km misurati al metro, ho fatto io personalmente con la l'urlina metrica, non con il GPS, così avranno tutti la possibilità di poter misurarsi su questa distanza classica del mezzofondo. Diciamo che la tradizione vuole che questa gara sia esclusiva, e principalmente per i bambini e per i ragazzi, perché noi facciamo la corsa di 200 metri per i bambini fino a 6-7 anni, quella di un chilometro per i bambini fino a 12 anni, e si gira esattamente il centro storico, e poi quella di 2,5 km per tutti quelli che non sono allenati e non vogliono fare la gara agonistica. Michelangelo, quali sono le novità negli anni cercate sempre di migliorare? Ecco, quest'anno se ce ne saranno e eventualmente quale sarà? La novità è quest'anno il cronometraggio con Tempo Gara, con i Cron, che è uno dei leader della rilevazione computerizzata, e quindi ci sarà il rilevamento dei tempi al computer dopo un'ora, dopo poche ore al massimo, i dati saranno tutti online, quindi da tutto il mondo potranno vedere chi ha partecipato alla Forio in Corsa, che tempo ci ha messo. Quindi è il secondo anno che si utilizza questo circuito, abbiamo cambiato la società di cronometraggio, abbiamo Gennaro Varrella che sarà lo speaker ufficiale, e stiamo cercando di crescere. Siamo lenti nella crescita anche perché la data è una data difficile, il 31 dicembre. L'orario però è comodo, un po' alla volta stiamo cercando di arricchirla sempre di più, non vogliamo cambiare data perché tradizionalmente è stata sempre questa la data e cerchiamo a fatica di conquistare spazio e partecipanti.